cosa ostacola dante nel suo tentativo di salire il colle per sottrarsi dalla selva oscura dal bosco oscuro nel cammino di dante dante è ostacolato da tre animali diversi la lonza il leone la lupa questi tre animali hanno un significato allegorico la lonza rappresenta la lussuria in mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirette via era smarrita all'età di 35 anni dante era entrato nel peccato ciao al prossimo video a presto